Alla novantesima edizione della festa dell'uva e del vino a Bardolino, grande successo di pubblico. Sul lungo lago presenti molte associazioni di volontariato, veri eredi della cultura e della generosità della tradizione vinicola. Abbiamo una festa dove centinaia di migliaia di turisti vengono a Bardolino proprio per degustare i nostri piatti tipici, tutti portati avanti dall'associazione all'interno degli stand ma vengono qui per il principe della festa che è il nostro vino Bardolino. Quindi da parte nostra non possiamo che augurare a tutti una buonissima novantesima festa dell'uva. È importante soprattutto perché è un momento di visibilità, cinque giorni in cui possiamo essere presenti, in cui possono vedere il nostro operato e soprattutto è anche un momento per noi economico, anche perché la festa dell'uva ci permette poi di poter finanziare tutte le attività durante l'anno in modo da poter raggruppare più donatori di sangue possibili, anche perché ultimamente purtroppo le donazioni sono in calo e quindi abbiamo bisogno di più sostegno e di più donatori di sangue possibili. E allora buon lavoro all'Avis di Bardolino che continua la sua opera di sensibilizzazione a favore della comunità tutta. Grazie a tutti.